Capita che uno è intrapreso o è capitato su una strada sbagliata e fa fatica ad uscire da questa via che non gli appartiene ma che è una via difficile, non bisogna rimanerci. Allora benvenga il programma Narconon che aiuta molti nella loro fase di recupero, nella loro fase di introduzione verso questa giusta strada che io ritengo che sia possibile. Nel futuro le persone riusciranno a capire veramente tutto quello che sta facendo e quello che ha fatto la Narconon. Ecco io ho conosciuto tra le tante esperienze che ho ascoltato e che ho anche suggerito molte volte il programma Narconon che è un programma che ormai viene sperimentato in tantissimi anni e questo dà dei grandi risultati. Ci sono tanti ragazzi che hanno risolto questo problema quindi avere fiducia, avere la speranza, non dire sempre la speranza di poter raggiungere la via di uscita per guarire attraverso un sistema che dia queste garanzie e ecco il messaggio che mi sento di dare che do a chi mi chiede, a chi mi preoccupa di questa situazione. Io penso che la pietra miliare stia nel fatto di riuscire allontanando dalle droghe il tossico dipendente, facendolo lavorare e valorizzando tutte le abilità che l'individuo sicuramente ha ma che fino a quel momento non ha avuto il modo di conoscerle.